Partiti, preso l'avvio il premio del Prato 2011 con Ciarcari sempre veloci nelle prime fasi, Ciarcari va davanti su Perdono, poi Raffisio e Satwadyuk Kameli, Darsahid e Neroloto. Queste le posizioni di Cavalli all'attacco della prima curva con Ciarcari che impone il ritmo della corsa nei confronti di Raffisio, terzo, vicino, Perdono, quarta e Kameli, quinto Satwadyuk con ai fianchi Darsahid, poi a contatto Neroloto. Così i Cavalli all'uscita dalla curva vanno adesso a piegare sulla diagonale. Conduce Ciarcari nei confronti di Perdono, i due precedono Satwadyuk, quindi Raffisio, Kameli, Darsahid, Neroloto. All'uscita dalla diagonale Ciarcari mantiene la sua posizione, seguito sempre da vicino da Perdono, dietro i due procede invece Satwadyuk, quarta Raffisio, poi Darsahid, Kameli. Cavalli che affrontano in senso contrario a quello abituale, la curva di Marlengo, per venire così a presentarsi sotto la tribuna. Ciarcari continua l'evidenza anche all'attacco della diagonale, i Cavalli che risalgono la diagonale, Perdono e Satwadyuk lo seguono da vicino, poi Raffisio, Darsahid, Kameli, Neroloto che galoppa la retroguardia del gruppo. Cavalli che pervengono al completamento della diagonale. Ciarcari mantiene sempre l'iniziativa, seguito da Satwadyuk e Perdono, Raffisio lì a contatto. Darsahid, quinto, sesta, Kameli, poi a un paio di lunghezze, Neroloto. Completato l'otto, i Cavalli adesso affrontano il passaggio davanti alle tribune. Ciarcari sempre in vantaggio nei confronti di Perdono, Satwadyuk al suo interno. Più all'esterno si protende invece Raffisio, poi Darsahid, Kameli, Neroloto. Perdono va adesso ai fianchi di Ciarcari sul salto della siepe davanti alle tribune. Ciarcari su Perdono, Satwadyuk filtra sempre per le linee interne. Curva di Marlengo con Satwadyuk che ha reperito il passaggio. Satwadyuk sfila davanti nei confronti di Ciarcari e Raffisio. Adesso si fa sotto all'esterno, poi Perdono, Darsahid, Kameli, Neroloto. Completamento della curva, rettilineo opposto. Satwadyuk accelera nei confronti di Raffisio che sopravanza Ciarcari. Quarto è Darsahid, quinto, Perdono. Siepe di metà. Satwadyuk continua adesso in vantaggio. Raffisio gli si pone a contatto, quindi Ciarcari è ancora terzo. Poi Darsahid, Kameli, Perdono. Completamento del rettilineo. Cavalli che vanno a boccare la curva finale con Satwadyuk che ha dato lo strappo. Raffisio è per il momento l'unico a seguirlo da vicino. Più indietro Ciarcari, Darsahid, Kameli, Perdono, Neroloto. Cavalli che affrontano l'ultima curva. Tre quarti della piegata. Satwadyuk e Raffisio si sono staccati dagli altri. Ricompletamento della curva, Satwadyuk aumenta il suo vantaggio su Raffisio. Più indietro c'è Ciarcari in lotta con Darsahid. Ultima conclusiva, Satwadyuk su Raffisio. Gli altri lontani, 150 dal palo. Satwadyuk amministra chiaramente il suo vantaggio. Satwadyuk, Raffisio non può far nulla. Satwadyuk vince il premio del Prato. Satwadyuk, secondo Raffisio. Terzo Ciarcari, quarto Dastahid, poi ancora Kameli, Perdono e Neroloto.